Stefan Bonen e Melvin, siete in Italia grazie anche all'essere finalisti al premio 100 con io e Leo ma oggi siete qui a questo festival bellissimo che è pasta da parola la domanda che vi pongono è avete fatto un libro diverso rispetto ai libri precedenti? perché è vero che è diverso? penso che sia un libro più serio naturalmente c'è sempre humor, ironia nel libro quello che io dico sempre è che io e Melvin cerchiamo di fare libri simpatici, divertenti ma su soggetti seri, su argomenti seri, importanti sì, penso che noi facciamo libri su cose che ci sembrano importanti sì, e forse anche la differenza è quella fra un album, un graphic novel, un fumetto e qui siamo più su una narrativa a colori, no? un novel with drawing è un ponte tra una graphic novel e una narrativa, un romanzo breve e non è perché noi facciamo libri divertenti che non possiamo fare invece libri un po' più seri sì, penso che è sempre una cosa speciale per noi le cose seri e le cose divertenti Melvin dice che la cosa speciale di loro è quella di mescolare cose serie e cose divertenti perché possano arrivare ai bambini e non solo ai bambini io credo, anche a noi adulti perché questo io e Leo fa bene anche a noi grandi da leggere quella torta la vorremmo tutti in un posto dove c'è una torta esatto esatto esatto